Ad incastrargli le immagini estrapolate dai carabinieri da alcuni impianti di videosorveglianza che li hanno ripresi mentre tentavano di rubare un'auto parcheggiata nel centro di San Michele di Bari. Nei guai due persone, un 44enne di Grumo Appula e un 23enne di Bitonto accusati di tentato furto aggravato. L'episodio contestato risale al 19 febbraio scorso. I due avrebbero rotto il lunotto posteriore di una utilitaria parcheggiata in pieno centro nel comune del Barese e dopo aver manomesso il cilindro di accensione furono messi in fuga da un passante che aveva notato il tutto dando l'allarme. Ma i due non avevano fatto i conti con una telecamera che aveva ripreso tutto e così identificati grazie anche alla descrizione fornita da alcuni testimoni sono stati arrestati e condotti ai domiciliari.